Salve, Zucconi di Repubblica raccontò una storia straordinaria, quella di Kate Miner, una miliardaria americana che aveva fatto i soldi con una rete di boutique di lusso, che decide di vendere tutto e di dedicarsi a stare bene, però vuole anche fare qualcosa di utile per la gente e compra un enorme camion con rimorchio di quelli che poi sono delle mega roulotte che quando si fermano si allargano, quegli stantuffi, eccetera, e crea un beauty center, una casa di bellezza, si organizza con alcune psicologhe delle femministe e portano in questa beauty farm viaggiante delle barbone, delle donne che vivono sotto i ponti, sotto i cartoni, e le lavano, le stirano, le fanno dormire due giorni, pedicure, manicure, coiffeur, poi massaggio, poi le vestono con degli abiti di lusso, con borsette, scarpe, eccetera, e le fanno sfilare davanti a tutte le donne che si sono prese cura di loro e ricevono qualche consiglio, stai con la testa alta, ma qualche complimento, come sei bella, come sei elegante, eccetera, e poi organizzano una telefonata per affittare un appartamento e per un'altra per trovare un posto di lavoro. Ovviamente poi c'è tutto un lavoro di seguire queste donne in questo passaggio, ma la cosa incredibile è che 5.000 donne in questo modo riescono a essere reinserite nella società. E l'altra cosa incredibile è che soltanto il 2% di queste donne, parliamo donne in situazioni veramente drammatiche, scappano con i vestiti e gli altri oggetti che vengono dati loro, che ovviamente per una persona disperata vai a impegnarli al banco dei pegni, qualche 100 euro per ubriacarti e riesci a tirarlo fuori. Kate Miner non si occupa del grande problema, del perché questa donna è arrivata a essere fuori dalla società, ai problemi psicologici, ai traumi, eccetera. No, lei punta sulla cosa più semplice. Questa è la filosofia Shanghai. Invece di affrontare il grande problema, io concentro tutte le mie energie sul punto dove è più facile vincere, sulla bacchetta più facile da spostare. Le donne, anche quelle più disperate, più malmesse, mantengono un fortissimo senso di sé del proprio apparire, della propria bellezza. Quello è un punto forte, è un punto vincente, punta tutto su quello. Kate Miner dice la più grande sciocchezza che io ho sentito dire è che l'abito non fa il monaco. Ho passato la vita a vestire delle puttane da regine e poi si sono comportate da regine, quindi l'abito fa il monaco. Ecco, è geniale. La cura è sull'aspetto estetico. Ultimo, la filosofia Shanghai sta cambiando il mondo, sta cambiando il modo di ragionare della gente. E io di questo mi voglio occupare nei corsi di yoga demenziale che faccio ad Alcatraz, cercando insieme a chi verrà di mettere in discussione, di progettare delle strategie diverse per cambiare la propria vita in meglio, se per. Buona giornata.